Aspettiamo coach Bucchi che venga generato da Sassari Lo portiamo a Trieste, magari tagliamo Brux per portare Moraschini e teniamo il visto americano per il proseguo del campionato e per trovare un taglio della Serie 1 di valore Dov'è Moraschini? Moraschini si sta allenando per conto suo e non ha squadra ancora ovviamente certamente ha già squadre di Serie 1 che sono zompate su di lui però sicuramente come sempre con un buon ingaggio, con un buon progetto futuro potrebbe anche sposare la causa di Trieste come del resto Walter De Raffaele sta seguendo le partite di Trieste per esempio quindi c'è interesse la piazza di Trieste al di là della Serie 2 è una piazza appetibile Su questo, diciamo la stessa del campionato, si possono ancora fare degli interventi perché è logico che siamo all'inizio del campionato però io non temporeggerei troppo perché in questo momento oltre alla classifica c'è anche una parte dei tifosi che non apprezza e diciamo in maniera fuori dai denti quello che si vede in campo cerchiamo di capire comunque che c'è una proprietà americana che ha investito che c'è il miglior general manager della Serie A a Trieste che comunque c'è un progetto che può essere fatto anche con passi falsi, con delle scivolate ma che non si trascenda perché attenzione che basta poco a stufare un po' la proprietà e dire signori arrivederci e grazie e dietro non c'è nessuno quindi occhio a capire che chi investe va comunque supportato e non parlo di dissenso, parlo proprio di restare nei confini del dissenso